L'attenzione, tutto quello che c'è sul tappeto per i giovani agricoltori. Sono tematiche molto importanti, di grande rilievo, perché in Italia abbiamo il problema del ricambio generazionale, il problema del dovere inserire, di fare in modo che i giovani agricoltori subentrino e che restino poi in agricoltura. E quindi siamo qui alla Spezia per questo seminario in cui è riunito il ministro dell'Agricoltura, è riunito la regione, sono riuniti i funzionari di altri enti.